Siamo a Cividale, Valli del Natisone, Udine, dove si terrà questo weekend il nazionale ODF a squadre. Vediamo se riusciamo a girare, voilà, siamo in palestra, macchine montate, palestra Cividale delle Friuli, come ho già detto, una riga di macchine enorme, un centinaio di macchine montate, pronte ad accogliere oltre mille giocatori che in questi tre giorni affluiranno qua, di tutte e tre le categorie A, B e C, Open Dart, Forcetta Italia come al solito cercherà di farvi qualche diretta, adesso vi porto nel mio piccolo tugurietto, eccoci qua, dietro le quinte, tutto sembra pronto, probabilmente andremo in diretta sul canale YouTube, dobbiamo ancora farlo nelle giornate di sabato, molto probabilmente e domenica chiaramente per le finali, si sono pronti, pronto più o meno insieme a voi a seguire questo bellissimo evento di freccette italiane. Grazie.